si, ma sono... qui tira cozza su... ma che c'è lei? tu... prendi i video gattro, gattro tu... cazzo... si, aaaaaaaaaaaaaaa allora la vedi qui è stata io l'ho sempre detto che al giorno è un pagamento per noi con randuore scuri ma lì senza orò di mani urala l'allero 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 il personaggio scuri tutto qua io credoooooo io credoooooo io credo io credo